La Juve ha vinto la Coppa Italia, l'Atalanta l'ha persa. Il Milan sperava che la partita andasse a rigori, in modo che i giocatori di entrambe le squadre si stancassero, ma così non è stato. La Juventus ha vinto grazie al solito chiesa, l'Atalanta ha perso e domenica ci affronterà per arrivare seconda in classifica per la prima volta nella sua storia. In tutto questo, da ieri sarà in tanti criticano Gasperini perché non si è sufficientemente lamentato del fallo di quadrado non fischiato sull'azione che poi ha portato al gol di Kulusevski. In tanti su Twitter dicono che Gasperini sarebbe esploso se lo stesso episodio si fosse verificato in una partita contro un avversario diverso dalla Juve. Ma chi pensava che Gasperini fosse pronto a dichiarare guerra alla Juve? Al termine della partita è rimasto con un pugno di mosca in mano. Domenica, l'Atalanta si impegnerà contro di noi, anche se molti suoi tifosi sembrano in disaccordo. La Juve proverà a vincere contro il Bologna, noi dovremo vincere contro l'Atalanta o nel caso sperare che il buon vecchio Sinisa Mialovic faccia fare ai suoi ragazzi l'impresa. E quindi, quindi credo che la partita di ieri sia stata un ottimo segnale in vista di quella di Domenica. Mi spiego, consapevole che se dovessimo perdere tutto questo potrà essere usato contro di me. Sì lo so, mi invento i nemici immaginari, ma mi serve per darmi forza. Comunque, guardiamo la partita. Ci sono due cose che secondo me possono farci ben sperare, che unite a una terza ci possono dare sempre più fiducia in vista di Domenica. Le prime due sono l'Atalanta e la Juve, la terza siamo noi, il Milan. Grazie al ca... no, seriamente. Juve-Atalanta, per quanto galbarizzate dalla presenza di pubblico per la prima volta dopo secoli e protagonisti di un primo tempo ad alto ritmo, sono due squadre che hanno dei limiti. Come tutte, ma ne hanno. È da domenica scorsa che parliamo dell'Atalanta come se fosse la versione calcistica degli Avengers, ed è giusto. Sono una squadra incredibile, con un gioco unico, e in due delle ultime tre partite che abbiamo disputato contro di loro ci hanno annientato. L'ultima volta che abbiamo giocato a Bergamo abbiamo perso 5-0, ma se fosse finita 8-9-0 non avremmo potuto dire niente. Eppure, al netto di tutto ciò, la squadra di Gasperini ha dei limiti. Altrimenti, negli ultimi anni, un trofeo l'avrebbe vinto. Altrimenti, quest'anno, avrebbe molti più punti di noi, e non solo due. E considerando che ci ha battuti nello scontro diretto, vuol dire che nel resto del campionato noi abbiamo fatto più punti di loro. L'Atalanta è una squadra pazzesca, ma ieri non è riuscita a vincere, e da due anni, praticamente ogni volta che ha giocato la Champions, quindi una partita impegnativa in settimana, in quella successiva o in quella precedente, ha fatto fatica ad essere lucida al 100%. Ha perso 4-1 col Napoli, tre giorni prima di giocare contro il Mithylland, e non ricordo più come si pronuncia. Ha perso con la Samp, tre giorni prima di giocare contro l'Ajax. La settimana in cui ha affrontato il Liverpool il mercoledì, la domenica prima ha pareggiato a 0-0 con lo Spezia, e in quella successiva ha perso 2-0 contro il Verona. Il 31 gennaio ha perso 3-1 contro la Lazio, ma tre giorni dopo, nonostante non ci fosse la Champions, c'era la semifinale d'andata di Coppa Italia. La settimana dopo, prima della semifinale di ritorno, si è fatta rimontare da 3-0 a 3-3 dal Torino, quella che io continuo a ritenere la peggiore squadra presente in Serie A quest'anno. Sarà un caso che praticamente ogni volta in cui l'Atalanta ha avuto il doppio impegno ha perso punti in campionato, forse, ma anche nel penultimo turno infrasettimanale contro la Roma ha pareggiato 1-1. E settimana scorsa, prima della finale contro la Juve, ha rischiato fino all'ultimo secondo che il Genoa recuperasse un vantaggio di 3 gol, con la partita terminata a 4-3, ma che ha lasciato con non poche paure i ragazzi di Gasperini. Insomma, è chiaro che l'Atalanta, che è e resta una squadra invincibile quando gioca al 100%, faccia fatica nel doppio appuntamento, specie se in mezzo alla settimana ha dovuto affrontare delle sfide decisive e difficili, e la partita di ieri direi che potrebbe far parte di queste. Non saranno arrivate ai rigori, ma forse, e dico forse, qualcosa hanno speso comunque. E la Juve? Beh, la Juve ha vinto il secondo titolo stagionale, ma dal mio punto di vista, ha confermato alcune delle cose viste quest'anno. No, non che Quadrado è aiutato dagli arbitri. Continua a voler pensare che sia un caso, che per due partite di file l'abbia spangata, e se non lo pensassi, non dovrei nemmeno continuare a guardare il calcio. La costante è che la squadra in sé, per molti tratti della partita, non ha idea di che cosa fare. Per tutto l'anno, la Juve di Pirla è stata salvata dalle azioni individuali di Cristiano Hernando e ancora di più di Federico Chiesa. Ma spesso, quando uno di questi due non riusciva a sfondare, la squadra ha perso punti anche in gara apparentemente abbordabili, come nella doppia sfida col Benevento, dove la Juve ha raccolto soltanto un punto su sei, come quando ha pareggiato con il Crotone o col Torino, o come quando è stata battuta 3-0 in casa dalla Fiorentina. Domenica c'è il Bologna, ed è improbabile che la Juve sbagli la partita, perché al netto delle battute sulle finali, quando le sfide diventano decisive, loro ci sono, tranne che contro di noi due settimane fa. Ma cazzo, prendiamoci un po' di meriti quando serve. Quindi, stiamo allerta, non chiediamo all'Atalanta di scansarsi, altrimenti cosa distinguerebbe noi da Cairo, che al termine di Lazio-Torino è andato da immobile lamentandosi dell'impegno messo da parte sua per fare il suo lavoro, vinca il migliore e speriamo che il migliore siamo noi. In ogni caso, noi ci siamo, e se è vero che in questo video ho parlato delle altre, vorrei risottolineare come alla fine tutto dipende ancora da noi. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, ci vediamo in prossimo, ciao!